Il gruppo artigianato c'è stata da subito un'identità di vedute ed è stata anche tra le prime realtà ad aderire al progetto della Capitale Italiana con una serie di iniziative che andremo a raccontare nei prossimi giorni, a fianco del sistema organizzativo della Capitale Italiana, a fianco di specifici progetti, a fianco anche del progetto 50x50 che andrà a sviluppare la Capitale Italiana nei 50 comuni, quindi anche a valorizzare nel territorio i singoli artigiani che apriranno i loro studi o parteciperanno a delle campagne specifiche anche per raccogliere viaggiatori e turisti nel raccontare il saper fare. Ci sarà anche un appuntamento nazionale di confartigianato in primavera che è un'altra cosa che abbiamo chiesto a tante realtà, è stata tra le prime a rispondere e in generale appunto un lavoro di identità tra quello che è il marchio Capitale della Cultura e quello che è un marchio di qualità del saper fare artigiano.